L'università ha appena deliberato in consiglio di amministrazione lo stanziamento di un milione di euro a favore degli studenti, gli studenti che quindi in questo momento stanno vivendo in albergo nei bed and breakfast, a fronte quindi di pezze giustificative, stanzierà a testa per un totale di un milione però un 500 euro a testa per ogni studente. Un milione di euro per rimborsare gli studenti che ad oggi non hanno trovato alloggio a Padova. Questi i fondi messi in campo dall'università di Padova, il comune per voce del sindaco intanto annuncia che ci sarà un contributo per l'Imu a chi affitterà agli studenti. Abbiamo stanziato una somma come massimo di 250 mila per studenti che non riescono a trovare in questo momento locazione. Sono soldi che saranno dati ovviamente tolti come Imu, non possiamo togliere l'Imu, sarà un contributo parli all'Imu quando uno affitta studenti o anche coppie per i paesi giovani che devono fare l'esigenza a Padova come logica. Fanno fronte comune le principali istituzioni patavine. L'aumento delle iscrizioni, soprattutto da parte degli studenti stranieri, ha fatto sì che manchino alloggi. Sì, le matricolazioni sono decisamente in crescita. Ad oggi abbiamo già più di 22 mila studenti, per cui abbiamo già superato la cifra del totale delle matricolazioni dello scorso anno e tenete conto che noi finiamo di matricolare a fine gennaio, per cui saranno sicuramente di più. Sono aumentati moltissimo gli studenti internazionali matricolati. A stamattina avevamo 2.272 studenti internazionali, quindi stranieri, matricolati, a fronte anche di 3.000 domande di pre-matricolazione, per cui anche questi sono destinati a crescere. Provvedimenti emergenziali questi, che sono però propedeutici a una collaborazione tra comune e università per quanto riguarda la partita delle residenze universitarie. Il primo cittadino però preferisce prendere tempo. I studenti che arrivano a Padova devono avere un'accoglienza degna di Padova, per cui stiamo andando insieme a fare. Ci sono altri progetti in corso, non ti parlerò adesso, cerchiamo prima di fare, dopo di raccontarli. Ci sono anche studentati che ne siano, però studentati ci vogliono 2-3 anni perché siano realizzati, per cui cerchiamo di gestire questa emergenza in collaborazione con tutti quanti.